Musica Allora, io studio storia all'università, quindi diciamo che l'argomento del libro di Giovanni, o meglio il tema della memoria, è un tema che sento molto vicino. E la cosa che mi ha spinto a scrivere quel monologo che è orientato più in generale sul tema della memoria, non e meno sul tema specifico del disastro, è stata proprio la convinzione, o la mia consapevolezza, del fatto che generalmente si tende a considerare un diritto, un particolare servizio o un bene, come un diritto acquisito, come una cosa scontata, perché non si conosce il come o il perché questo diritto o questo bene, questo servizio è stato acquisito. E penso che l'esempio in questa direzione debba provenire proprio dai giovani, perché dalle conquiste dei giovani di oggi dipende il futuro, dipendono i giovani di domani, dipende la vita dei giovani di domani. Grazie. Grazie. Grazie.